bellissima questa strada a scendere dal valico di Forca Caruso in discesa è ancora più gradevole anche perché l'asfalto è veramente buono, poi stiamo nelle ore più calde della giornata quindi l'asfalto è bello caldo, la gomma aderisce bene, spettacolo, spettacolo la gomma aderisce bene, spettacolo, spettacolo cambio di direzione Castellieri tutti motociclisti Castellieri Castelvecchio Subequo quindi con le armele valico Forca Caruso siamo giunti a Castelvecchio Subequo Castelvecchio Subequo Ecco le gole di San Venanzio Intanto sono solo brevi Cambio di direzione Bellissimo, uno spettacolo dove passa il trenino qui nelle gole di San Venanzio E quindi ci ritroviamo per l'ennesima volta nelle gole di San Venanzio Anche in questo giro, d'altronde abbiamo fatto un comprensorio Un giretto che comprende il territorio abbastanza vicino tra di loro Le strade per tornare sono queste Passaggio a livello Passaggio a livello Passaggio a livello Sì, ci sono dei bei panoramici che siamo fatti anche a ritroso Ci siamo passati stamattina Siamo andati E tornati La prossima volta cambiamo zona Oh no Sillante Sì, ci sono andati Sì, ci sono pronti Eccinistra Sì, ci sono molto a rilassare Sì, ci sono anche inizia Poi Grazie a tutti. Molto bella questa strada, veramente una strada spettacolare sia all'andata che al ritorno. E da qua inizia una leggera discesa. Grazie a tutti. Siamo arrivati qui a Raiano. Abbiamo finito questo giro, da dove questo giro è partito questa mattina. Adesso faremo una pausa. E quindi, amici, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale se non avete fatto per aumentare un attimino il numero degli iscritti e per non perdere gli aggiornamenti. Per i nuovi video che ci saranno, cliccate il tastino qui sotto, iscrivetevi al canale per non perdere gli ultimi aggiornamenti, per non perdere i nuovi video. E quindi, un abbraccio, un saluto virtuale, amici, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!